Allora, pene, una parola che sta a cuore a tanti e a culo pure. Comunque, dal latino penis vuol dire anche coda e già vi dice che nel dubbio ci mettono dietro, che non va neanche male, voglio dire. Comunque, pene, perché si dà sempre questa accezione negativa alla parola pene? Penitenziario, penoso, penultimo, cioè non è neanche ultimo. E poi pene d'amore, pene legali, ce l'ha sempre con lui, poverino, che poi a guardarlo bene, guardiamolo bene, piccolo, rattrapito, non è la sua fierezza, noi lo descriviamo come Excalibur, spada. Cioè è lì che sembra una lumaca morta. Porco demonio, dov'è che è una spada quella roba lì? Fa schifo, fa pure della ricotta e fa pure cagare quella roba lì. Cioè, ma voglio dire, chi lo chiama spada, ma ha dei problemi mentali, perché fa veramente cagare, guardatelo bene, interrogatelo quel serpente dall'occhio solo lì. Cioè, ora poi lo vogliono anche le donne, e noi nel dubbio diamoglielo, cazzo, diamoglielo il pene, ma diamoglielo da tutte le parti se lo vogliono, tiriamoglielo, no? Eh? È così, che ci volete fare? Il pene è sempre stato bisprattato dall'alba dei tempi. Povero pene, mai che si dica di un uomo, guarda com'è brillante, com'è pene! No, invece no, soffre di pene, d'amore. Nel dubbio ce l'hanno sempre con lui, che è lì che sembra una pecora castrata, porco demonio. Vabbè, addio. Alla prossima. Alla prossima. Grazie.